ciao ragazzi sono qui con i miei cani uno è disperso laggiù eccolo qua con il suo fedelissimo amico e ci stiamo allenando per il cammino per gli animali che ormai come ben sapete quest'anno parteciperemo anche noi alla quinta edizione purtroppo partecipiamo distanza e le date sono dal 22 settembre al 2 ottobre e cammineremo tutti i giorni cioè dal 22 settembre ad ottobre si cammina tutti i giorni ragazzi tutti i giorni bisogna battere chilometri a favore dei diritti degli animali però ci saranno quattro dati speciali la partenza del 22 settembre il 2 ottobre noi combatteremo la basilica di sentietro con il santuario di dito forte mi raccomando partecipate numerosissimi basta inviare un messaggio al numero del canile che non so assolutamente a memoria con scritto la tappa a cui volete partecipare o tutte le tappe se volete fare tutte e quattro le date più importanti diciamo speriamo di vederli in tanti ciao